Io mi rivolgo a te che non sai l'inglese e ti faccio una semplice domanda. Prova a dirmi come si dice e come ti chiami. Sicuramente il tuo what's your name esce in maniera automatica. E ti dico io il perché ti esce in maniera automatica. Perché l'hai sentito centinaia di volte e quindi ragioni in maniera associativa. Noi così ti insegniamo l'inglese. Capire le serie TV in lingua originale per poter scoprire prima di tutti che fine farà il vostro personaggio preferito. Andare all'estero con la serenità di farsi capire perfettamente. Trovare spunti interessanti per il vostro lavoro tra i siti in inglese o leggere il nuovo libro su Harry Potter in lingua originale per sapere come prosegue la saga. Avere padronanza dell'inglese è anche un modo per vivere meglio, per capire e per farsi capire. Al Wall Street English tutto il lavoro è incentrato su questo. Sul modo migliore per imparare l'inglese o per perfezionarlo. Il Wall Street sa perfettamente come si insegna e soprattutto vuole che l'inglese lo parliate davvero. È una metodologia vincente, è una metodologia unica e il motivo per cui è unica è rappresentato da una serie di caratteristiche, una serie di plus che ci contraddistinguono a livello, oserei dire, mondiale. Il tutto naturalmente esiste dal 1972 e viene applicato da più di 500 sedi nel mondo. Negli ultimi sei anni, sette anni, a dire la verità, siamo stati anche acquistati come gruppo da Pearson, Pearson Group, che è un colosso mondiale sia dal punto di vista formativo che informativo. A tal riguardo mi piacerebbe anche precisare che Pearson è proprietaria di marchi come Logman, come Financial Times, tutti strumenti che vengono forniti ai nostri studenti. La frequenza è libera, gli insegnanti sono madrelingua qualificati e di diverse nazionalità e soprattutto si ragiona per obiettivi e non a numero di ore. Al Wall Street gli orari non sono un problema, le lezioni sono su misura grazie alle ampie fasce di apertura, i corsi personalizzati, gli ambienti fanno sorridere gli occhi e un insegnamento diverso da tutti gli altri. La differenza principale rispetto ai competitor è dettata dal fatto che non facciamo riferimento a quelle che sono ore classiche e tipiche, ma facciamo riferimento ad obiettivi. Ecco, questo è il cuore del metodo, nel senso che fare riferimento ad obiettivi vuol dire dare una garanzia al privato o all'azienda che sia di raggiungimento obiettivo, di ritorno di investimento pari al 100%, perché? Perché ognuno di noi ha un proprio ritmo di apprendimento. Anche se ormai non ci facciamo caso, ogni giorno usiamo centinaia di parole inglesi, più di quante immaginiamo. Ampliare il vocabolario e padroneggiare la lingua non è così difficile se vi affiderete all'esperienza di un istituto che fa parte anche del gruppo Pearson, leader mondiale nel campo dell'editoria, della formazione e dell'innovazione didattica. Ad Alessandria da tempo, Wall Street è un punto di riferimento. Il Wall Street è molto più che un luogo dove imparare l'inglese, è un luogo dove allenare la mente e sentirsi davvero cittadino del mondo. E se il Wall Street English esiste da oltre 40 anni, ci sarà un perché? Of course!